yuxin 3x3 cubo con cui al momento Colin Barnes adesso ho dei dubbi non ricordo se è Colin Barnes a detenere il record comunque l'attuale record di 5.25 è stato fatto con questo cubo che è il main appunto di questo speedcuber ed è anche il main mio non me l'aspettavo invece mi piace veramente tanto mi ci trovo molto bene è velocissimo controllabile anche se rischia di overshootare un pochino ogni tanto ha la caratteristica del centro leggermente stondato che non mi fa impazzire ma in questo cubo almeno è leggermente ridotto e si nota meno il taglio è ottimo a 45 gradi abbondanti forse anche di più vediamo la linea con la seconda linea ecco no un po' meno e il taglio inverso assolutamente validissimo così tra l'altro un taglio che neanche si sente va veramente da solo è un cubo che non lo capa neanche per idea non poppa a meno che non capiti quindi la situazione è veramente sfigata questi sono i pezzi vi mostro anche il core il core è molto ordinario classico vecchio core questo è un angolo e questo è uno spicolo meccanismo anti pop a più vie come vedete come vedete c'è questa questo pezzetto questo rigonfiamento dello spigolo che va a incastrarsi nell'angolo inoltre c'è il torpedo che blocca la base dell'angolo in questo modo e poi ci sono le alette queste due che vanno a bloccarsi fra i due centri quindi abbiamo un sistema a tre vie che personalmente trovo superiore ai video ai cubi con con meccanismo anti pop a singolo sistema con torpedo con torpedo allora che altro dire nient'altro un cubo molto veloce sensazione molto smooth anche se è leggermente crispy la sensazione è morbidissima ma veramente estremamente morbida questo ovviamente non il cubo come esce dalla scatola ma è lubrificato ad hoc e regolato molto bene anche se il cubo già da quando esce dalla scatola è veramente ottimo io mi sono innamorato del cubo appena uscito dalla scatola e quando l'ho lubrificato ho messo i miei stickers eccetera mi sono trovato veramente bene tanto che ho sostituito il mio waylong che era ancora il mio main l'ho sostituito con questo cubo che è nettamente più grande perché è un cubo da 57 quindi diciamo che si torna alla vecchia misura ormai MoYu sta facendo tutti i cubi da 56 mediamente diciamo approssima leggermente più piccoli dei cubi standard la Yuxin ha mantenuto il 57 questo in mano si sente che è un cubo vecchio stile è bello grosso però è assolutamente per quanto mi riguarda al momento il miglior cubo sul mercato ovviamente è un'opinione strettamente personale ma senza dubbio è fra i primi 3-4 insomma se si vuole fare un gruppo di 3-4 cubi al momento migliore sul mercato c'è questo c'è il Gans 356 ci sono Weilong e Aolong che sono ancora largamente usati e poi c'è un nuovo cubo che vedremo nell'ultimo di questi video che è il Tang Long il Tang Long io riponevo molte aspettative e appena l'ho aperto effettivamente queste aspettative erano ben riposte ne ho sentito parlare molto bene e oggettivamente è un gran cubo devo ancora lubrificarlo e sticararlo quindi il video sarà l'ultimo che pubblicherò tra queste recensioni e niente chiuso il discorso sullo Yuxin è assolutamente un cubo meraviglioso quindi ve lo consiglio al 100% l'ho sticarato col mio logo perché ci tengo che il mio main ha il mio logo non ho altro da dire se avete domande postatele nei commenti e sto valutando l'idea di fare anche alcuni video dove rispondo alle domande più frequenti e nient'altro passiamo al prossimo video